ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo sul terzo episodio della miniserie su x4 foundation visto che mi è piaciuto parecchio e questa missione questo episodio lo chiamerei il piede in due scarpe perché perché alla volta scorsa siamo arrivati alla volta della della terra dove che dovrebbe essere di qua dove siamo entrati in un relitto usando la nostra tuta spaziale e ho dovuto fare dei mini giochi vi ho saltato diciamo tutta la sezione perché non voglio spoilerarvi nulla del gioco della storia in modo che ve lo possiate godere anche voi ma in sintesi siamo riusciti a entrare e stavamo lavorando per i pionieri di segaris mi pare si chiamino che sono degli scissionisti terrestri e in sintesi che cosa è successo sono entrato fatto un dollo dei dati abbiamo scoperto la tecnologia della terraformazione che ora posso ricercare invece i pionieri di segaris sono riusciti a utilizzarla per terraformare un mondo che cosa è successo beh la nave prima di tutto me l'hanno lasciata nave stupenda bellissima dovrebbe essere una nave tipo di paranid però insomma è bella bella potente non ho guardato effettivamente se è più potente del normale però so solo che ha uno sprint eccezionale che cosa succede adesso adesso abbiamo un'altra missione ho preso una delle missioni che avevo che mi avevano dato all'inizio e ho chiamato questo episodio il piede in due scarpe perché siamo dalla parte adesso dei terrestri stiamo inseguendo siamo sulle tracce di un ladro di un truffatore da quello che ho capito e questo truffatore fa parte dei pionieri di segaris quindi piede in due scarpe collaboriamo con l'uno collaboriamo con l'altro perché noi nasciamo comunque tra resta e quindi ora siamo all'interno di questo settore e dovrei andare a mollare una una un satellite avanzato per poterlo tracciare nessun contatto questo un po inaspettato ci aspettiamo di trovarlo qui infatti no c'è qualcosa quindi debba il segnale che il mio team riesce a localizzare con precisione credo che sarà necessaria una ricerca più approfondita usa lo scanner a lungo raggio anzi prima di tutto facciamo una bella cosa io vado dato che costano un sacco di soldi e io sono povero come a merda io mi avvicino mi avvicino pian piano prendo questo disattivo satellite dopo di che lo attiro a me e me lo ripiglio ok usiamo la scansione a lungo raggio quindi shift 3 e usiamo una scansione nulla eccolo per lo meno questo prodotto un risultato proseguendo in questo modo sarà in grado di tracciare l'origine del segnale ok andiamo 122 chilometri per questa nave non sono assolutamente un problema andando a 6 km al secondo direi che in una ventina di secondi dovremmo esservi una volta velocità massima ovviamente note quante stazioni orbitali di difesa vicino a al portale mannaggia ho perso il segnale perché l'ho deselezionato stai diventando più definito continuiamo ottimo continuo così continuiamo ovviamente in questa miniserie non ho toccato nulla di quello che riguarda il discorso economico del gioco sto mandando la mia astronave nella sola di minaggio anche se ho cercato conferme online in effetti le mie conferme sono state confermate perché in pratica pare che abbia non ne ha fatto parecchio il discorso della del mining infatti adesso è molto ma molto più difficile ottenere soldi e infatti non è così produttivo me ne sono accorto a te si guadagna poco dovrò ed è quello che volevo alla fine perché guadagnavo veramente troppo e era meglio sudarsela un po di più la cosa facciamo un'altra scansione vediamo se troviamo sto tizio ci siamo quasi ok quanto è lontano andiamo accelero normalmente poi faccio ricaricare gli scudi perché quando uso i post bruciatori vado a abbattere lo scudo della nave ed eccolo assegniamo immediatamente una pattuglia locale per assisterti questi pirati non ci prenderanno di sorpresa questa volta ma in realtà perché ho fatto questa missione perché in realtà nel mio inventario o degli oggetti che vorrei vendere al mercato nero il mercato nero lo si trova scansionando alcune stazioni con la scansione shift 2 oppure andando in un mercato nero appunto e io speravo che qui mi facessero scansionare un mercato nero in cui mi fermavo parcheggiavo e vendevo ok dobbiamo andare a battere questa hanno detto che ci assegnavano una pattuglia di copertura ma io onestamente non vedo nessuno tra l'altro io continuo ad avere degli evidenti problemi a gestire la telecamera ok stanno arrivando verso di me però eh niente dai noi siamo iperarmati quindi ci proviamo iperarmati io spero che questi siano comunque belli potenti di laser sono 4 laser vediamo se diventano rossi a niente all'imbruscata xenon ah ok no quella era la erano le navi a darmi una mano allora eh non si capisce in sto gioco veramente la parte narrativa è fatta carina fino a quando vi spiegano le missioni perché quando siete in battaglia non si capisce più una mazza comunque vabbè adesso abbiamo tirato giù tutti gli scudi quindi mannaggia a me devo farli ricaricare spero non sia una capital quella cos'è eccole lì è una capital xenon quella venisse qualcuno a darmi la mano a quello che è da solo dai mamma mia è troppo veloce sta nave è veramente veloce voglio far ricaricare gli scudi perché ok penso di averli fatto male però ho necessità di ricaricare gli scudi quindi voglio ruotare un po' in cerchio per recuperare mamma mia ho perso ho perso un po' di scafo devo finire subito l'opera con sto tizio perché non ho neanche oh sta fumando però non è messo proprio benissimo ma non dovrà venire qualcuno aiutarmi mannaggia la pupazza ok dai sono tornati sugli scudi almeno no ma era di là tizio ok allora questo è un altro e io sto inseguendo quello lì che adesso è scappato a due chilometri ok andato uno è andato cacchio hanno hanno lì anche la capital questi animali mamma mia quasi mi è venuto addosso che spettacolo lo puntano in automatico poi puntatori automatici bellissima sta nave mi piace sempre di più adesso eccoti lì no dovrei regolare un po' la velocità no sarà una battaglia molto lunga mi sto rispostando verso la capital dell'exinon ma non capisco stavamo inseguendo un pirata alla fine sono xinon che il buon silmo mi diceva sono dei terran che sono poi cambiati adesso rallento in modo che lo faccio andare lì ok 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 mannaggia vi farò venire il mal di mare ma adesso ok ok vediamo l'addio a un'altra pattuglia adesso dove sono andati tutti eccoli lì oh sono arrivati in forza è arrivata anche lo squadrone caccia katana ne voglio attaccare uno sposto vicino cioè ha un'accelerazione eccezionale quella lì quello squadrone lì sta andando via ma anche questo non scherza ok bello che lo punta già in automatico gli abbatto gli scudi adesso gli abbatto la vita penso di averlo anche colpito percorso maludemente ok dai che quasi è andato anche lui ui 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 ok è andato anche lui dai mi avvicino ah questo è andato ok target no questo ok trova il mercante ok vorrei avere il tempo per non comere il tuo coraggio ma tema dovrei proseguire immediatamente il tuo compito ok dobbiamo un commerciante avrà inviato la richiesta di soccorso lo schema coincide ok andiamo andiamo subito andiamo subito a vedere che cosa è successo acceleriamo e andiamo a vedere poi ovviamente avete risposto in tanti al video scorso quindi vi chiedo di fare la stessa cosa con questo video e dirmi che cosa ne pensate lo sto portando un po' così a ruota libera cioè sto cercando di fare due soldi senza darmi all'economia darmi a quelle attese inesauribili senza fine di attesa di profitto sperando che magari qualcosa si sblocchi da solo nel corso della partita sicuramente mi da soddisfazione il fatto di comunque potermi gestire tutte le cose sono andato mi sono messo un po' in giro per i settori alcune boe alcune sonde minerali in modo da capire e la produzione effettivamente cioè la presenza di minerali è veramente bassa quindi qui dovrò studiarmelo un po' diamo un'occhiata intanto qua che cos'è quello è un è una fabbrica di substratti computonici computonici è sparito scansione eccolo sembra che tu sia arrivato giusto in tempo le segnalazioni del territorio dei pionieri stanno diventando una pira come temevamo ok questo vediamo temo dovremo scansionare ancora perché quello è l'ultimo segnale ricevuto ma magari non lo troviamo nemmeno lì no eccolo lì lo vedo generosa luce solare dobbiamo fare molta attenzione posso parlargli? salve scansiona ah devo scansionarlo faccio finta di niente eh sono stato vicino comunque questa non è una bella grossa sono stato vicino a una Tokyo ma la pensavo onestamente più grande beh comunque scansioniamola così vediamo anche come funziona lo scansionatore ora vicino al bersaglio seleziona scansione nel menu contestuale ah vuoi vedere che scansiona ora vicino ok che strano il commerciante ha riferito che era stato intimato di lasciare il carico ma non è stato rubato niente di valore solo una piccola quantità di generi elementari non dobbiamo soffermarci ah da adesso in poi siamo da soli perché non è più previeni il prossimo attacco Yaki fermatevi per favore sì ma adesso scusate ma io ho roba illegale nello zaino ah tutto a posto va bene dai allora intanto ha detto qualcosa anche il boro ma non sono riuscito a leggere quindi vabbè in sintesi sta collaborando con qualcuno scorgo una flotta minerale di pionieri in lontananza potremmo chiedere allora indicazioni andiamo un po' c'è qualcosa di là andiamo chiedi indicazioni chiediamo indicazioni a quei tizi lì allora ci avviciniamo ormai è un viaggio senza fine questo ora vicino al versario seleziona scansione questa cosa della scansione fatta così col menù contestuale non l'avevo mai fatta onestamente quindi vediamo perciò un'altra mi prendo un autista che guidi per me così non sto qua io a fare queste cose chi va là solo un altro metro sarete cibo per mosche spaziali devo avvicinarmi di più non ho ben capito che cacchio sia successo comunque c'è sto tizio qui che ci vuol dare fastidio e diamogli allora rispondiamo al fuoco che bella nave però non c'è nessuno che mi sta dando una mano qua cazzo questa è grossa questa nave qui è grossa allora lento mi sono andato addosso ho bisogno di ricaricare gli scudi ho bisogno di ricaricare minchia quanti sono fortuna che non sono da solo ci sono anche gli altri ad aiutarmi però cavoli siamo messi malissimo qui e siamo morti siamo in tutta spaziale la nave è stata distrutta e hanno distrutto anche noi va bene va bene va bene va bene ciao 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 ciao